E' già il signor Irando qui con voi che vi dà il benvenuto in questa nuova puntata, quindi che aspettiamo? Let's go! Eccoci tornati ragazzi con questo nuovo, nuovissimo episodio, questa nuovissima puntata su Minecraft. Ve l'avevo detto che abbiamo iniziato una nuova serie, ma Minecraft continuerà, quindi non vi preoccupate. Allora ragazzi, niente, in questa puntata prima di tutto volevo salutare il designer che mi ha fatto il background del canale. Nel caso voi non ve ne siete accorti, ho un background nuovo, abbastanza professionale, molto bello a mio avviso. Trovate il link del suo canale in descrizione dei miei video, da questo video, dal video scorso in poi. Troveremo sempre il suo canale, l'indirizzo, il link del suo canale nella descrizione del mio video. Si chiama Matpag, Matpag è molto bravo, quindi se a voi vi dovesse interessare basta contattarlo, lui è disponibilissimo a fare background. Niente, detto questo, volevo ringraziare tutti quanti ragazzi per tutto l'affetto e per avermi incoraggiato. Ho detto che è bellissimo il gioco The Walking Dead, ciò mi rende veramente felice perché anche a me piace tantissimo. E quindi, niente, sono molto molto felice. Mi sarebbe, sarei rimasto veramente triste se non fosse piaciuto a voi, non l'avrei dovuto più caricare. Siccome mi piace ma passione, mi emoziona, volevo dividere queste emozioni con voi. Bom, detto tutto questo preambolo di cose, volevo partire subito dicendo che, allora, mi avete detto che non vi piacciono per niente queste torce qua, di mettere delle torce normale qui così. Niente, e io accontento come sempre quello che potete, quello che mi dite, che mi dite di fare, che posso ovviamente. Niente, torniamo a casa perché ragazzi mi mancano le bistecche e non ho da mangiare. Andiamo qui, andiamo qui, eccolo qui, boh, facciamo mezzo stack perché veramente 64 bistecche sono veramente tante. Ok, allora, prima cosa da fare, upgradeare questa chest, raga. Bisogna fare l'upgrade di questa chest perché veramente, veramente siamo al limite. Quindi, allora, otto pezzi di oro, un pezzo di ferro e facciamo subito, subito l'upgrade della chest perché è piena, piena ed è quella mista. Abbiamo bisogno che ogni cosa che non è segnata nelle... Vediamo se è questa, sì. Boom, oh, perfetto, così diventa una chest. Ha più capienza, boom. Questa era la prima cosa da fare. Poi, 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 dobbiamo fare questi item qui. Un utente mi ha detto che per abbellire un po' la nostra bloody arena ci sono queste inverted lamp cage. Sarebbero fatte così, in questa maniera. Mi ha detto di farle rosse, non è una cattiva idea, quindi io lo ascolto e ci mettiamo subito al lavoro. Ne facciamo un bel po' di queste. Quindi, allora, ci servono un po' di queste qua. Poi queste si facevano così e così. Ok, allora, quindi partiamo subito. Allora, un po' di redstone, un po' di glowstone. E andiamo a mettere subito dentro qui. Ok. Poi mi servono... Mi serve, mi serve... Il colorante rosso. Dovremmo avere un po' di fiori. Vedi qui, ok. Andiamo a metterli qui. Facciamo un bel po' di coloranti. Ok. Poi mi servono le... Vediamo se le abbiamo. Sono ceccato, sono ceccato. Non le vedo. Non le vedo. Non le vedo. Fa niente. Non è un problema. Le faccio. Ok. Ok, facciamole subito. Ok. Poi abbiamo bisogno di un po' di bastoncini. Ok. Anche lì a posto. E facciamo un po' di... Di queste redstone torch. Per ora possono bastare. Quindi niente. Allora, raga. Poi cosa ci manca? Ok, le slab. Benissimo. Le possiamo fare benissimo di cobblestone. Che vanno benissimo. Che si fanno? Come si fanno ste cose? Ok. Servono i pannelli? Oh, li ho visti? Sì, perfetto. Ok. Boom. Allora, ci servono una redstone torch. Poi, poi, poi. Le slab. Via tu. Via tu. Dentro tu. I pannelli. Poi ci servono le iron bars. Che tra l'altro le avevamo qui. E poi ci servono questi qui. Che si fanno, si fanno, si fanno. Vediamo un po' se riusciamo a farli. Ok. Si fanno, si fanno, si fanno. Abbiamo detto. Colorante. Andiamo di qui. Si mette tipo redstone, glowstone e i coloranti, se non sbaglio. Ok. Ne facciamo un po'. Facciamone 26. Speriamo che bastano. Ok. Così e così. Perfetto. Cosa ci manca? E? E cosa ci manca? Le leve le abbiamo. Queste le abbiamo. Le bar le abbiamo. Queste le abbiamo. Cosa ci manca? Questa l'abbiamo. Questa l'abbiamo. Questa l'abbiamo. Questa l'abbiamo. E questa l'abbiamo. Cosa ci manca? Semplicemente che non c'è la leva Ma c'è questo E perché ci mette la leva automaticamente? Ok Abbiamo svelato l'arcano Non capivo perché Ok Perfetto ragazzi Allora su tu Tu qui Tu qui Via tu Ma si mettiamola qui per ora Ok Mettiamo via le leve Hai capito? Ci spostava le leve automaticamente Nella project table Al posto che Continuarci a scalare le nostre Redstone torch Perfetto Abbiamo detto di fare anche questo Lo facciamo subito così Almeno siamo a posto Andiamo 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 a lavorare Ok Scendiamo e vediamo come fare Allora ne possiamo mettere una qui 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 Però qui raga ci dà fastidio Via tu Magari che ne so Una qui Una qui Una qui Poi ditemi voi nei commenti cosa Ne pensate di cosa è meglio fare Secondo voi Una qui Una qui Una qui Una qui Una qui E una qui Ok Ok dai almeno sono meglio Mi avete detto di farlo Se poi non vi piace Avete idea di fare in un altro modo Basta che me lo dite Nei commenti Poi ragazzi Allora benissimo Siamo A buon punto Allora adesso però Voglio vedere Quanta energia C'è qua dentro Ce n'è però io Sinceramente Gliene darei ancora un po' Sinceramente Così almeno siamo a posto per una vita Vediamo intanto se si ricarica Ok Perfetto Vedete Vedete Sì 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 Perfetto Si ricarica Quindi allora niente Adesso guardiamo di notte Di nuovo questa Spettacolare costruzione Ecco intanto Un creeper Maledetto Andiamo a dormire Prima che ci succede Quello che stava per succedere Adesso che ci prenda un creeper Mi dice che ci sono dei mostri intorno E non mi fa dormire E chi c'è Eccolo qui Secchiamolo Ok Andiamo a dormire Che dobbiamo fare subito subito Un'altra cosa Andiamo 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 a dormire Ok Allora ragazzi Adesso dobbiamo fare L'ultimo tassello Di questa nostra Meravigliosa Come si chiama Armatura Quindi dobbiamo partire subito Con fare l'Iridium Alloy Andare nel nostro Implosion Compressor Eccolo qui Gli buttiamo dentro Due di questi Due di questi Boom Due Iridium Plate Figata Figata Ok Andiamo a mettere via Andiamo a mettere via Questa roba qui Intanto vediamo il QR Un attimo È fermo È fermo Perché è fermo Mi sa che ci sono giù le macchinette Che sono Ci sa che c'è giù No Va Cos'è che c'è che non andava Perché è tutto bloccato Perché è un bug No la roba continua ad arrivare Ma qui non la si vede Bah Probabilmente perché è troppo veloce Comunque la roba continua ad arrivare Perfetto Allora ragazzi Noi dobbiamo fare Ve lo dico subito Dobbiamo fare Dobbiamo fare L'ultimo tassello Della nostra Megatuta La Quantum Suite Helmet Che si fa in questa maniera Abbastanza complicato Ma niente di che Quindi mettiamoci subito al lavoro Voglio farlo ovviamente in diretta Non voglio star lì a Allora innanzitutto Già vedo che non abbiamo Electronic Circuit Quindi lì dobbiamo fare E non è un problema farli Facciamo subito Subito Ok così Poi dobbiamo mettere Qua la Redstone E vedere se abbiamo del Ferro definito 33 Poca roba Dobbiamo Iniziare a pensare Di cuocerlo Ok Ce ne servono due Abbiamo detto Giusto Sì Uno due Però ovviamente Voi pensavate che era finita così Ovviamente no È impossibile Perché Questi Cosi qui Bisogna Upgradarli In Con i lapis E Così Se non sbaglio La Glowstone Così Perfetto Due Advanced Circuit Perché sono Advanced Circuit Perfetto Poi dobbiamo fare Reinforced Glass Ok Abbiamo visto anche già Come si fanno Così Così E poi bisogna Rendere il vetro Che lo abbiamo Ok E Perfetto Bisogna farne uno Cavolo ce ne da sette Buonissima come cosa Quindi abbiamo fatto anche questo Questi qui Li ridum ce li abbiamo Dobbiamo fare Dobbiamo fare queste due cose Il Lapotone Crystal Ovviamente Grazie ai vostri Mega Super Spettacolari Consigli Dobbiamo fare Due di Lapotone Crystal E si possono fare Anche così Se non sbaglio Ok Così risparmiamo i diamanti Anche perché non ne abbiamo Quindi È dura così Poi Questa roba qui Con Ah è vero Esatto Allora Prima di tutto Dobbiamo fare Altri Electronic Circuit Ok Altri due almeno Ok Ok Refinite D'iron Ok 1 2 Perfetto Perché questo Raga perché Non mi sto amenando via Ve lo giuro Che non mi sto amenando via Questo così Con il Lapotone Al centro E questo così Ok Ci fa il Lapotone Crystal Perfetto Quindi abbiamo detto L'Apotone Crystal Due Advanced Circuit Il Reinforced Glass Se non sbaglio Qui Reinforced Glass Ok Ok Due di questi qui E ci manca ragazzi Il Nano Sweet Helmet Eccolo qui Vetro Ok Quindi ci serve Questo 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 Energy Crystal E mi sembra Il vetro Sopra No Così Nano Sweet Helmet Perfetto Ok Abbiamo fatto anche Nano Sweet Helmet Lo possiamo andare a mettere Insieme al resto Però se non lo prendo è dura Guardate ragazzi Boom Quantum Sweet Helmet Ragazzi Questa parte qui Adesso volevo Spiegarvi Allora Innanzitutto Andiamo a mettere via Quella roba qui Nella chest Della magia Questa roba qui Perfetto Ok Nella chest Delle mod Questa roba qui Così facciamo un bel po' di pulizia Ragazzi Vi spiego subito Perché alcuni di voi Mi hanno mandato anche un messaggio privato Dicendo che adesso Che io Adesso vi faccio vedere Vi spiego Mi avete detto Adesso che tu hai fatto Questa armatura qui La body armor Praticamente Cosa succede Ragazzi Voi non avete torto La vostra lettura è bella Però c'è un problema Una volta che noi mettiamo questa qui Noi siamo immuni Da ogni tipo di Come si chiama Di danno Procurato da qualunque tipo di cosa Perché Perché questo Perché La armatura Ti rende invincibile Ogni danno che subisce Ovviamente Finché ha carica all'interno Non ti reca danno Quindi E questa è una cosa Veramente super mega figa Però cosa succede ragazzi Che voi magari non lo sapete Ma il Weeder Intanto qua si è fermato Perché qua è pieno È perfetto Il Weeder Oltre a farti 800 attacchi al secondo E ogni attacco Praticamente ci toglie Metà vita Cosa fa lui? Butta roba Anche velenosa Perché come vi ricordate Ci sono anche Intanto che spiego Ricarico il resto Dell'armatura Ci sono anche Gli scheletri Dal quale abbiamo Ricavato le teste Per poter arrivare A questo punto A questo punto Per combatterlo Che cosa succede ragazzi? Lui ti avvelena Lui ci avvelena anche Allora questo Questo è il metto ragazzi Ci permetterà Di essere immuni Dal Guardatemi Ci permette Di essere immuni Da qualunque tipo Di avvelenamento Se non sbaglio ragazzi Adesso non mi sono informato Scusate Anche Ci rende Immuni Anche se stiamo Sotto l'acqua Quindi questa prova Adesso io direi Di farla Andiamo a metterci In altro pezzo Guardate Siamo quasi pronti Ragazzi Allora Innanzitutto Voglio provare A andare a mettere Innanzitutto Andiamo a mettere Via quella roba qui La testa del creeper E voglio andare A mettere via Il butt pack Perché mi serve Ok Tanto che scendo Mangiamo Cosa c'è di meglio Che mangiare Mentre si salta Ok ragazzi Ora siamo Completamente Invincibili Ho voglia di farmi Vedere da voi Oh oh Eccoci qui Vedete Vedete Non si vede Ma c'è sotto il mento Il pezzo di vetro Che ci rende immuni Ci rende immuni Da qualunque cosa Che sia avvelenamento Che sia qualunque cosa Adesso però Sono curioso di vedere Se vado nell'acqua Qua è solo un cubo Sì Sono curioso di sapere Se vado nell'acqua Se muoio Affogato Vediamo Allora innanzitutto Le bolle Intanto ammazziamo questo Prendiamoci le Innanzitutto Le bolle iniziano a scendere Vediamo se ci porta via la vita Facciamo sta prova Vedete Avete visto Arriva a un certo punto Che si ricaricano le bolle Quindi noi siamo invincibili Vedete Avete visto Siamo invincibili Anche sotto l'acqua Cioè praticamente Siamo Abbiamo una tuta Che è qualcosa di assurdo Assurdo È perfetta È spettacolare Sono contentissimo Anche perché ci avete Abbiamo messo Praticamente 37 episodi Per farla Intanto abbiamo visto qui Che è passata Una ape Quindi anche le api Ci sta prendendo Il nostro query Quindi allora Fatemi pensare Fatemi pensare Raga 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 Fatemi pensare Praticamente Secondo me Siamo pronti Per Per costruire Il nostro Per andare a farci Il nostro Wither Quindi niente ragazzi Adesso io Vedo da quanto registro Faccio un attimo Il punto della situazione Mi configuro tutto ciò E ritorno Quindi A tra poco Eccoci tornati ragazzi E finalmente Come vedete Siamo nel nether E dobbiamo prendere La soul sand Sennò col cavolo Che facciamo il Wither Prendiamone un bel po' Tutta quella che abbiamo Tutta quella che c'è qui Ok Tanto adesso Come vi ho già detto Siamo immortali Da tutto Ah ok Vedete Intanto si è scaricato Il diamond drill Semplicemente Perché non abbiamo Non abbiamo più Il backpack su Però vabbè Non è un problema Perché comunque Possiamo sempre Prenderlo Ok Torniamo a casa Intanto il gas Ci tira Ma non ci fa niente Quindi lui Non ce ne frega niente Ok Ritorniamo A casa Perfect Ragazzi Abbiamo anche La soul sand E possiamo andare A combattere Il Wither E mettiamo Qui questo Ok Mettiamo qui Questo E andiamo a combattere Il Wither Ragazzi Andiamo a combattere Il Wither Allora Innanzitutto Ci servono le teste Io ne voglio Già combattere due Ve lo dico già Quindi ce ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfetto Guardate abbiamo Le Wither Skeleton School Giusto? Sì Che sarebbero le teste The Wither Quindi andiamo subito Subito a combatterlo Ragazzi E Facciamo così Facciamo come solito Partire Vediamo una cosa Prima di tutto Sì Facciamo partire Il Prendiamo la nostra Chiavetta Che è la nostra salvezza Praticamente Ok Ce l'abbiamo qui Accendiamo il nostro Sistema Di campo di forza Entriamo dentro Prendiamo La nostra Sabbia Via tu Che non mi piaci Qui 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 ragazzi Ok 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 Ragazzi Via Guardate Il Wither Ragazzi Speriamo che resisterà Allo scoppio Tutto quanto Speriamo di sì Noi intanto siamo protetti Boom Avete visto Non è successo niente Guardate ragazzi Lui non può far nulla Non può distruggerlo Avete visto Che l'esplosione Ha resistito Adesso entriamo dentro Ragazzi E via le danze Muori 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 Guardate Che non ci fa niente Guardate la mia vita Guardate 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 quanto è cattivo Ragazzi Senza questa Senza questa armatura Saremmo stati spacciati Oddio Muori 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 Vai ancora qualche colpo Ole Guardate intanto Quanto Mi ha consumato La L'elmetto L'elmetto Guardate che roba Ragazzi Noi nonostante abbiamo Questa armatura Guardate mi sono rimasti Tre cuori e mezzo Perché Questa armatura Si è scaricata Si è scaricata Perché ha subito Troppi colpi Ma guardate che cosa Ci ha droppato Guardate che bellezza Guardatela Nether star Nether star Boom Andiamo a prendere la nostra Nether star Ragazzi Io so benissimo Che voi tutti sapete A che cosa serve Questa Questa Questo item Però io voglio farvelo vedere Nel prossimo episodio Spero ragazzi Che vi sia piaciuto Il Il combattimento Ovviamente Ragazzi Questa cosa è veramente figa Ragazzi Voi non avete idea Che se non fate Veramente bene Questo impianto Raga Non avete idea I danni Che vi fa questo Wither Perché inizia a volare alto E spara quelle cose Avete visto quanto è aggressivo Avrebbe demolito Tutto il nostro lavoro Quindi ragazzi Insomma Bisogna fare un bel lavoro E mi sembra di averlo fatto Perché comunque Ci siamo salvati Abbiamo recuperato La nostra Nether star Che faremo tutto Ragazzi Nel prossimo episodio Quindi io vi dico ancora Grazie a tutti Per tutto quello Che fate per me Per rendervi partecipi Così tanto Via 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 Che ho sentito un creeper Rendervi partecipi Così tanto al canale Io vi ringrazio ancora E penso che per questo episodio Possa bastare Quindi da random È tutto Enjoy a tutti signori